Che cos'è? Una scena tagliata. Quale scena? Quella in cui parli con Carlo. Meglio passare direttamente al dialogo fra Emanuele e Sara. Senza di me. Beh, francamente mi sembra che tu ci sia un po' troppo nel film. La gente non vuole vederti in tutte le scene. Non vuole. E allora perché gli ammiratori mi scrivono ancora lettere? Perché vogliono vedere le mie fotografie? Perché? Perché vogliono vedere me? Gli ammiratori ti scrivono ancora? Qui? Sì. Walter mi porta tutte le lettere che trova davanti al cinema. E perché non me le fai vedere queste lettere? Sono curioso. Vuoi sapere che cosa mi scrivono? Sì. Semplice curiosità. Semplice curiosità. Pronto? Chi è al telefono? Lei chi cerca? Cerco Morano Leibert In questo momento non c'è Chi lo desidera? Sono la sua fidanzata Sara Riferirò Ma lui sta bene? Lei chi è? Buonasera Sono ragazzi giorni che non... Le scrivi tu Di cosa parli? Walter, le lettere che arrivano da Lida le scrivi tu Sì E perché? Pensi che le faccia bene? O che alimenti soltanto la sua follia? E che ne sai tu di cosa è meglio per lei? Io sono suo marito Un marito che lei non ama più E che ti importa? Lei non potrà amare più nessuno Nemmeno te Ma a me non interessa l'amore di Lida E allora perché sei rimasto qui tutti questi giorni? Dovevamo terminare il lavoro sulla sceneggiatura Non pensavi che fosse un intruio di scene melodrammatiche quella sceneggiatura? La miglioreremo Non farla soffrire Non lo merita Sara E allora E allora E allora E allora Grazie a tutti.